ciao a tutti popolo del tubo bentornati su farm manager 2018 non so se avete sentito la titubanza ma ero già dimenticato il titolo del video allora ragazzi come avete notato sono andato via dalla campagna non dalla campagna come campagna campagna principale del gioco perché non finiva più non finiva più era un tutorial troppo lungo e ho preso la modalità libera ragazzi voglio farvi vedere la modalità libera quindi quello di prima era un tutorial diciamo la nostra vera la nostra vera partita inizia adesso come vedete ho iniziato con 900.000 euro tipo una cosa del genere ho già costruito un magazzino ho già costruito un silos c'è un piccolo orto una casa la casa dei lavoratori le quattro campi vedete che ho costruito ci ho messo già una pompa d'acqua e come vedete li ho già arati coltivati e fertilizzati la qualità del raccolto non è male adesso dobbiamo andare a seminare questo campettino qua vedete ci vuole ogni campo ci vuole in mezzo lo spaventapasseri come vedete c'ha quest'aria azzurra che è l'area di lavoro praticamente lui fa sì che questi uccellacci non si posano sul campo vedete e non vadano i corvettini a beccare il vostro raccolto altrimenti altrimenti beccano il vostro raccolto vedete si fermano è però ecco vedete non vi rovinano il raccolto grazie agli spaventapasserini allora andiamo subito ragazzi che c'è da fare in questa puntata andiamo subito a commissionare la semina di questo campo andiamo subito a scegliere macchine e non più manuale innanzitutto scegliamo i semi ci mettiamo il granino scegliamo il trattorino scegliamo la seminatrice scegliamo la pilotina abbiamo la nostra gioia che ci dà gioia ragazzi abbiamo solo due operai una che si occupa dei lavori di campo e uno che si occupa dei lavoretti diciamo dell'orto vediamo un po l'orto a che punto sta l'orto è da irrigare quindi tanto all'orto scegliamo samuele samuele vai subito ad irrigare l'orto noi ragazzi aumentiamo un pochettino il tempo perché sennò qui ci facciamo notte sono un po lentini vedete mentre uno va a prendere l'acqua dall'orto vedete e adesso metto velocità normale vedete l'operaietto va praticamente a ad irrigare i nostri lamponi vedete più il lampone viene irrigato e più la qualità del raccolto cresce la nostra gioia la nostra gioia di vita ha iniziato a inizia a seminare il campo praticamente che succede ragazzi succede che non ci sono le marche su questo gioco praticamente ci sono tipo due trattori una seminatrice un paio di mini c'è un aratro piccolo uno grosso un erpice piccolo uno grosso una seminatrice piccola una grossa capito un trattore da frutteto e due grossi basta non è che c'è tutta sta roba che pensate voi e soprattutto sono solo i modelli senza marche diciamo sono sono smarcati come possiamo dire sono senza marca e ma non è un gioco questo dove non so se in futuro faranno uscire mod sarebbe bello se fosse moddabile amici sviluppatori se per caso mi seguite sarebbe bello ma non è per il momento non è moddabile ma vabbè non è un gioco che si basa sulle marche sul realismo cioè sul realismo sulle marche questo si basa sulla è un manageriale ragazzi è un gestionale quindi si basa sulla gestione che queste sono delle missioni che lui ti dà per prendere più punti ma non sono necessarie alla fine del ai fini del gioco questo campo qui come vedete queste sono le gli allarmi diciamo siamo in primavera si cita sul tuo campo come vedete il raccolto qui se ne sta per andare a quel paese quindi noi adesso dobbiamo irrigare tutti tutti i campetti tutti i campetti mettiamo intanto l'opzione no aspetta rimaniamo a uno perché così noi intanto andiamo ad ordinare un irrigatrice e allora vediamo un po di irrigatrice andiamo andiamo su spruzzatrice macchine irrigatore che cos'è questo l'irrigatore d'acqua con testa spruzzatrice mobile consente di irrigare le colture per garantire l'umanità di quadro terreno questa costa 3.500 beh ma è meglio rimorchio ragazzi è meglio rimorchio dai io a me piacciono a me piacciono le cose fatte fatte per bene all'antica con rimorchio allora che succede che quando acquistate un mezzo qua su farm manager non è come farming simulator che vi appare magicamente o in pur farming che vi appare in farm dovete aspettare c'è un tempo e dovete aspettare che ve lo consegno in farm quindi arriverà un trattolino bellino e che vi consegni che ci consegnerà il mezzo intanto noi vediamo un po qua il campo se si è irrigato perfetto adesso lo facciamo spruzzare perché ce l'abbiamo gli gli antifunga alti erbacce l'abbiamo fatto spruzzare contro gli insetti adesso facciamo spruzzare il nostro campo dall'erbacce sempre tu sempre a batantuono accetta io però non mi ricordo se ho scelto quello giusto e vabbè robbie raga robbie sta fuori di cervello allora anti erbacce ok perfetto accetta ok adesso lui andrà nel capannone a prende tutto ok tanto la tizia ha già finito però ecco la cavolata io spero intanto eccolo guardate ci stanno portando la botte avete visto ci hanno portato la botte col trattolino ecco se sono pure scontrati meno male che non c'è stanno le collicia dicevo non è come in farming c'è scusate ho detto una cacchiata volevo dire c'è un problema sarebbe meglio se si potessero dare gli ordini più di un ordine a trattore al lavoratore invece per dare un ordine bisogna aspettare che il trattore torni farm che venga parcheggiato e poi si dà l'ordine ecco questa è un po una cacchiatella insomma bisognerebbe da cioè bisogna sarebbe meglio insomma che che si possano dare più ordini perché adesso vedete la 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 tizia deve risalire un'altra volta sul trattore a parte che è stanca è stanchina e tanto qui ci sono i caprioli per strada che a parte che è stanchina e questo non è non è mai un bene vabbè vediamo un po come irriga ecco qua ragazzi sta irrigando il campo vedete come sta irrigando il campo la nostra gioia a se una gioia di vita gioia gioia se una gioia di vita siamo al 10 giugno chissà quando il campo sarà pronto e tanto il tizio qua dove andata spruzzato il tizio ha spruzzato perfetto domani nel giorno di domani lo faremo spruzzare per per le altre cose con le altre cosine intanto vedete ecco gioia è tornata ma vedete io non posso dirgli di irrigare anche questo perché quando vado a fare così mi dice che le macchine non sono disponibili bisogna aspettare che gioia parcheggi un'altra cosa sciocca vedete che sta piovendo ma l'umidità del terreno non sale ecco questa è un'altra è un'altra cacchiatella che spero che mettano bene con i prossimi aggiornamenti intanto scusami gioia se te faccio lavorare così tanto ma mi dovresti andare a annaffiare anche sto campo perché qua purtroppo la pioggia non vale come irrigazione vedete non si muove proprio vedete non si muove proprio non si muove paglia ragazzi non si muove paglia ecco fatto invece qui ragazzi andiamo anche se qua non è che gli è bastata tanta una spruzzatina bisogna spruzzarlo pure nella giornata di gioco per di domani intanto la nostra gioia parte vedete col col buio cioè non c'ha proprio problemi e mentre gioia va a a a fare anche quest'altro campo noi ci costruiamo un po' l'aglio visto che tanto lì il gioco ci chiede di costruirci un po' l'aglio come obiettivo noi andiamo subito vediamo un po' dov'era vediamo un po' dov'era su costruzioni animali ci costruiamo un bel pollaglietto allora stalla piccola porcile piccolo rimessa piccola pollaglio medio conigliera piccola bellino la conigliera edificio dell'apicoltore pollaglio piccolo permette l'allevamento di galline anatre e insomma faraone e cose varie ok perfetto ragazzi costruiamo qua il pollaglietto a posto ci sono andati altri soldi speriamo che li prenderemo tutti sti soldi e intanto facciamo irrigare anche sto campo qua da gioia gioia me devi scusare gioia di casa però me devi andare pure qua lo so che sei stanchina però insomma super robertino tuo fai questo ed altro qui ragazzi bisogna irrigare brutto di brutto perché va proprio giù l'irrigazione lo stato dell'irrigazione intanto vedete qua il camioncino porta porta la robina che serve per costruire il pollaglietto vediamo a che punto sta qui il campo dei lamponi allora il campo dei lamponi adesso manca solo una spruzzatura che è quella antifungo e che io non so nemmeno se praticamente qua i funghi crescono sugli orti così però è sempre meglio è sempre meglio farlo allora qui ragazzi bisogna assumere un tipo assolutamente fisso sì un tipo che si occupi anche del pollaio vediamo un po questo qua che c'ha 4 su 5 per quanto riguarda a no 1 su 5 bisogna vedere questi con gli animali che c'hanno ecco 4 su 5 quindi assumiamo collodi che è parente del collodi famoso ok ci mettiamo collodi vediamo un po quanti animali possiamo comprare compriamo 30 30 polletti li mettiamo proprio riempiamo la stalletta ok cibo consentito gestione automatica loro mangiano lupini e girasoli mettiamo via mettiamo lupine girasoli poi ci faremo anche un campo di lupine girasoli così non dovremo stare a comprare sempre da mangiare ai polletti sementi e piante no che sementi e piante fogliame che sono i prodotti lupino ne acquistiamo 200 ecco che ci stanno scaricando i polli tra l'altro vedete vedete 200 e girasoli altri 200 ok girasoli altri 200 acquista perfetto adesso facciamo una stradina carina in modo che le macchine non ci calpestino sempre i campi gli orti e tutto quanto facciamo una stradina così che porti al pollaglietto qua ok perfetto ragazzi perfetto così che ho fatto non lo so che cos'è qui casa dei lavoratori fissi non ce ne frega una mazza no che vuol dire qua non capisco che c'è sticona a non c'è il lavoratore ma come acquistato collodi ok perfetto collodi è stato messo qua il cibo gestione automatica ecco facciamo mezzo lupino e mezzo girasole perfetto e qua vicino ci faremo dei campi poi di lupino e girasole allora qua come sta messa l'umidità bisogna anche fare l'umidità qui questo ragazzo è un giochettino che non vi dà pause non vi dà pause è strutturato bene è fatto bene proprio in modo che non ci siano pause allora gioia qui il campo va irrigato ogni minuto ogni secondo ok quindi 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 allora qui ci facciamo dei piccoli campettini andiamo a costruirli così ci mettiamo girasoli e cosini insomma lì come si chiamano girasoli e bassa quantità di cibo per gli animali ma come ho comprato ma come ho comprato i lupini la roba aspetta cibo consentito gestione automatica magazzino ma come niente ci stanno ci sta a non ce l'hanno consegnati ancora ok ok vabbè adesso ce li consegneranno dai arriveranno intanto qua gioia c'ha ci ha fatto i campi sì ma sti campi vanno irrigati meglio gioia mi irrighi pure questo un'altra volta per cortesia macchine qui bisogna irrigare gioia non ci stanno cacchietti ma se continua a essere un lavoro così lungo mi conviene metterci gli irrigatori quelli quelli fissi perché se no qua affittiamo domattina allora sì dai aspettate mucchette che poi sì mucchette polletti che poi arriveranno i rinforzi dove va questo a ok porta le uova dentro ok allora mentre c'è il tizio che porta le uova a me qui serve di arare sto campetto ci mettiamo samuele samue arame sto orticello ci arriamo questi due orticellini e poi ci semineremo lupini e girasoli in modo che i polletti si auto sostengono la fattoria ragazzi cresce sta crescendo vediamo chi è che arriva qui arriva qualcuno no dicevo qui i campi come sono messi l'umidità qua va benissimo questa ancora è derriga gioia devi irriga lo so che son rompi bip però devi irriga poi vediamo questo campettino qua anche questo è derriga e questo ci può pure sta via comunque ragazzi è un lavoraccio gestina fattoria un lavoraccio tu stai a fa bene perfetto mi posso permette me sa pure un altro pelaglio e me posso permette pure un altro pelaglio via assumiamo un altro pelaglio che sia buon bracciante come questo qui sbarbaro sbarbaro mi piace ci mettiamo sbarbaro a lavorare qui ok perfetto manualmente sbarbaro ok ara 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 caro mio ara ara sbarbaro arash babbaro ok ok ragazzi questo è quasi stanco se ne va a dormire si daranno il cambio insomma lo sapranno loro quello che devono fa e come vedete sono arrivati i rifornimenti i polletti non chiedono più il cibo ecco qua ce l'hanno ce l'hanno la quantità di cibo ce l'hanno gioia mi ha riposato già la 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 no devi irriga gioia tu devi irriga dalla mattina alla sera non hai capito devi irrigare dalla mattina alla sera si ragazzi ma io non so se il campo cioè se si secca così velocemente il campo porca miseria va bene che stiamo in estate stiamo in pieni estate però insomma non è che possiamo qui sta sempre vedete come cacchio scende la cosa dell'umidità quindi io penso opto quasi quasi permettere l'irrigazione l'irrigazione automatica allora 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 vediamo qua se intanto producono vediamo un po quante uova hanno prodotto le galline già 93 uova ragazzi 93 uova ragazzi quindi noi le vendiamo tutte e abbiamo già guadagnato le nostre prime 300 euro quasi 200 273 quindi come vedete ragazzi si inizia si inizia a guadagnicchiare a guadagnicchiare a guadagnicchiare ok dobbiamo fare però a turno con i campi è un po di colture invernali e un po di colture e primaverili perché altrimenti non ce la facciamo a gestire un po un po tutto quanto intanto vedete hanno scaricato qualcosa in magazzino hanno scaricato ai concime seminicrano non so che cacchio hanno scaricato non lo so qui fanno tutti come gli pare comunque ragazzi io spero che questo giochino vi stia piacendo vi saluto anche questa puntatina è volata via come niente noi ci vediamo alla prossima puntatina di farm manager lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un commento che a me fa sempre piacere e venite a trovarmi sul server disco dei ragazzi il server disco tutto gratuito in descrizione detto questo vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social i link per comprare i giochini scontati su istangaming e dateci un'occhiata ci sono proprio belle offerte però dovete cliccare sul link sotto andate su google scrivete istangaming cliccate sul link sotto e noi ci vediamo al prossimo video di farm manager ciao